Siamo appena usciti dalla sala del Palazzo dei Congressi di Cracovia dove è stato deciso in via definitiva che le opere di difesa veneziane che abbiamo candidato a patrimonio mondiale dell'UNESCO sono iscritte nella lista patrimonio mondiale e tra queste, come sapete, le mura di Bergamo. È una grande soddisfazione, ci sono voluti dieci anni per arrivarci, il lavoro di tante persone, tre amministrazioni comunali, i bruni, i tentori della nostra e molti aiuti da parte di persone competenti e appassionate che amano questo patrimonio. È una responsabilità, oltre che un onore, perché dovremo davvero lavorare per valorizzare le nostre mura, però penso che sia una grande gioia da condividere con tutti i nostri.